Buongiorno ragazzi, riprendiamo la nostra grammatica. Abbiamo visto che cos'è il predicato, quindi il predicato verbale e il predicato nominale. Abbiamo visto che cos'è il soggetto e siamo poi passati ai complementi, cioè a quelle parti del discorso che vanno ad ampliare la frase minima, che ci aggiungono delle informazioni oltre al soggetto e al predicato. Abbiamo già visto il complemento oggetto che risponde alla domanda chi, che cosa. Abbiamo già visto il complemento di specificazione che risponde alla domanda di chi, di che cosa. Vediamo oggi il complemento di termine. Allora, innanzitutto qual è il verbo? Porta, voce del verbo portare. Quindi porta è il nostro predicato verbale. Chi è che compie l'azione di portare i regali? Babbo Natale, quindi Babbo Natale, cioè colui che svolge, che compie l'azione di portare, è il soggetto. I regali. I regali risponde alla domanda che cosa, cioè che cosa porta Babbo Natale, quindi è il nostro complemento oggetto. Questo ai bambini, a quale domanda risponde? Beh, questo ai bambini innanzitutto che informazioni ci dà? Ci dice a chi porta regali Babbo Natale, a chi Babbo Natale porta i regali, quindi risponde alla domanda a chi. Vediamo adesso ancora un'altra frase. E quindi vediamo il cane abbaia alla luna. Il verbo della frase è abbaia, voce del verbo abbaiare. Quindi abbaia è il nostro predicato verbale. Chi è che compie l'azione di abbaiare? Il cane, quindi il cane sarà il nostro soggetto. Alla luna. Alla luna cosa ci dice? Ci dice a che cosa? Verso che cosa il cane abbaia? Risponde appunto alla domanda a che cosa. Da questi due esempi, quindi Babbo Natale porta regali ai bambini, quindi questo ai bambini ci dice a chi Babbo Natale porta bambini e risponde alla domanda appunto a chi. Da quest'altro esempio, cioè il cane abbaia alla luna, questo alla luna ci dice verso che cosa, a che cosa il cane abbaia. Cosa possiamo dedurre? Beh, possiamo dedurre la definizione di complemento di termine. Il complemento di termine indica quindi la persona, come nel caso dei bambini, l'animale o la cosa, come nel caso della luna, a cui è rivolta l'azione del soggetto. Babbo Natale quindi rivolge la sua azione di portare regali ai bambini, il cane rivolge la sua azione di abbaiare alla luna. Quindi ai bambini, al cane e alla luna sono i nostri complementi di termine che indicano appunto le persone e la cosa a cui è rivolta l'azione del soggetto. Molto più semplicemente, come facciamo a riconoscere qual è il complemento di termine? Facilissimo. Il complemento di termine risponde sempre alle domande a chi oppure a che cosa. E vediamo quindi ancora degli esempi. Giacomo ha chiesto a Lucia di sposarlo. Giacomo è il soggetto che compie l'azione di chiedere, quindi ha chiesto il nostro predicato verbale. Ma a chi Giacomo ha chiesto di sposarlo? A Lucia. Questo a Lucia che risponde alla domanda a chi è il nostro complemento di termine. Vediamo ancora una frase. che può trovare il consenso di molti. La Nutella piace a tutti. Piace, verbo piacere, quindi è il nostro predicato verbale. La Nutella è quella cosa che, diciamo, compie l'azione di piacere, quindi è il nostro soggetto. Ma a chi piace la Nutella? A tutti. Questo a tutti è il nostro complemento di termine, dal momento che risponda alla domanda a chi. Ancora altri esempi. Paola ci ha spedito una cartolina. Questo ci, che significato ha? È un pronome. E cosa significa? Significa a noi. Quindi questa frase potrebbe essere scritta così. Paola ha spedito a noi la cartolina. Questo ci, infatti, ha lo stesso significato di a noi. Scrivere questa frase in questo modo, scrivere la frase in quest'altro modo è la stessa cosa. Cos'è, inoltre, che non cambia? Il fatto che questo ci e questo a noi rispondono alla domanda a chi. Cioè, Paola, soggetto, ha spedito, predicato verbale. Che cosa? Una cartolina, quindi complemento oggetto. Ma a chi l'ha spedita questa cartolina? A noi. Quindi questo a noi e questo ci, che rispondono entrambi alla domanda a chi, è il nostro complemento di termine. Da questi esempi capiamo quindi che anche i pronomi, che non sono necessariamente preceduti dalla preposizione a, possono svolgere appunto il complemento di termine. Questo ci risponde esattamente come a noi alla domanda a chi. Vediamo ancora un altro esempio simile a questo. Comportati bene o non ti regalerò niente. Questo ti, cosa significa? Significa che non regalerò niente a te. Quindi questo ti, che ha un pronome, significa a te. Quindi questa frase potrebbe essere scritta anche in comportati bene o a te non regalerò niente. Ma in ogni caso, sia questo sì, sia questo a te, rispondono alla domanda a chi. Cioè, a chi io, soggetto, non regalerò niente? A te non ti regalerò niente. Quindi questo sì e questo a te sono due complementi di termine. Vediamo l'ultimo esempio, più semplice. A chi posso chiedere un biscotto? Benissimo, anche qui abbiamo un pronome, chi, pronome interrogativo, preceduto da A. A chi posso chiedere un biscotto? Beh, si vede benissimo che questo a chi risponde alla domanda a chi. Cioè, posso chiedere un biscotto ma a chi? A chi? È già dentro la domanda. Quindi anche i pronomi, che siano personali o che siano interrogativi, possono rispondere alla domanda a chi, a che cosa e possono quindi svolgere la funzione di complemento di termine. In ogni caso, qualunque parte del discorso risponda alla domanda a chi, a che cosa è complemento di termine.